Negli studi di TVC di Cinzia Mirabella, assessore all'ANU del Comune, editore del Greco, restano sempre innumerevoli disagi sul fronte rifiuti. Come si sta lavorando? Allora, siamo partiti, come abbiamo detto nell'ultima intervista, con una prima fase di sensibilizzazione. Ovviamente a questa fase di sensibilizzazione adesso ne segue un'altra, una fase dove oltre alla sensibilizzazione si associa anche la sanzione. Come si è visto nei giorni scorsi, soprattutto sulla zona mare, sulla zona del litorale, abbiamo sanzionato diversi cittadini che purtroppo conferivano in orari, in giorni non previsti appunto dal contratto e quindi si sta procedendo in questo senso. Ovviamente la sanzione non riguarda soltanto i cittadini, siamo molto attenti nel rispetto del capitolato d'appalto della società Butol, quindi stiamo verificando che i mancati spazzamenti oppure il mancato lavaggio di una strada sia regolarmente sanzionato, qualora non dovesse avvenire, perché ci rendiamo conto che rispetto ai tempi passati la città è leggermente più pulita, ma ovviamente la città è ancora sporca e sarebbe veramente da ipocriti poi nasconderselo. Quindi stiamo lavorando in tal senso per poter migliorare la situazione attuale. E la società rispetta questo capitolato? Non sempre, non sempre perché come ben si sa c'è un verbale di contraddittorio, c'è un verbale appunto dove si stabiliscono le cose fatte e non fatte, purtroppo in quel verbale ci sono anche poi delle compensazioni dovute a servizi che vengono richiesti perché appunto c'è il cittadino che non conferisce come dovrebbe. Nei giorni scorsi abbiamo visto una serie di lavatrici, frigorifero, quindi RAE che dovevano essere prelevati, ma erano in un numero quasi sproporzionato per un'utenza domestica. Questo ci fa pensare a male che sia stato fatto con l'intenzione di deturpare il territorio, ma soprattutto per dare anche un danno d'immagine alla stessa città. È assurdo che un cittadino possa depositare in un luogo come un centro storico, ma anche come lo stesso litorale, degli ingombranti che nessuno vede. Quindi questa cosa fa ben pensare che bisogna intensificare i controlli, bisogna convergere tutte le forze possibili per poter sanzionare chi non rispetta le regole. Quali sono le zone più attenzionate e quelle più critiche? Le più critiche non c'è dubbio che è la zona mare. Proprio ieri sera a San Giuseppe alle Paludi qualcuno ha lasciato una serie di ingombranti che non permettevano l'accesso delle auto. Noi siamo stati già nella zona mare, abbiamo anche fatto una serie di interventi per sgombrare delle aree che erano da tempo piene di rifiuti. Purtroppo il fenomeno è continuo e potrà essere risolto sicuramente con l'apertura di un punto deposito ingombranti a cui stiamo lavorando per Viale Sardegna. E sicuramente deve essere maggiorata e rafforzata la sorveglianza. Invece il centro alla Santissima Trinità sta funzionando regolarmente? Funziona regolarmente però il problema è che lì il numero di ingombranti è tanto. Quindi spesso il deposito chiude per poter svuotare i cassoni. E molto spesso durante la notte vengono depositati ingombranti lungo le marciapiede. Abbiamo chiesto di poter installare delle telecamere così da evitare il fenomeno dell'abbandono notturno. Per non avere una città dunque più pulita è necessario che i cittadini si rispettino le regole ma che ci sia una sinergia tra la società e l'amministrazione comunale. Alcune zone come Torretta Fiorillo ho avuto molti cittadini che inizialmente erano un po' titubanti perché indirizzati dai stessi operatori della Buttle nel conferire i suoi cosiddetti cumuli abusivi. Inizialmente hanno avuto un po' di diffidenza poi hanno iniziato a conferire rispettando le regole. Purtroppo devo dire che la stessa cosa non è avvenuta da parte della Buttle che non ha prelevato i rifiuti quando doveva nei giorni stabiliti così come indicato. Quindi questa cosa ci ha fatto un po' rammaricare soprattutto perché il cittadino che fino a ieri era titubante viene demoralizzato quando poi il servizio non viene effettuato. La società deve rispettare il prelievo del porta a porta, deve ovviamente fornire il servizio anche nelle stradine parallele alle arterie principali, cosa che spesso non avviene e che dobbiamo sollecitare e questa cosa a noi dà molto ai nervi. Siamo continuamente caricati di telefonate, di messaggi, di mail di cittadini che ci dicono che la spazzatura rimane fuori la porta fino a orari oltre quello stabilito che è le 10 e mezza della mattina e quindi dobbiamo sempre richiedere dei giri di recupero per poter prelevare questi rifiuti che soprattutto in questi giorni d'estate danno veramente fastidio.